Come risolvere così l'errore critico su Valorant, che Valorant non si avvia oppure il Riot client non funziona del tutto, quindi in questo caso vai direttamente su Esegui, scrivi qua sopra Esegui, una volta fatto entra qua dentro scrivendo %AppData% dobbiamo entrare così nella cartella di AppData, vai in AppData, local, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Valorant, o cancelli direttamente la cartella di Valorant oppure cancelli direttamente la cartella Save, cancellando così la cartella di Valorant ripristine ride così tutte le sue impostazioni, tutti i suoi file, quindi elimini anche le cache nel gioco, quindi tutte le cache anche del programma, quindi cancella anche la cartella di Riot client, quindi sempre in AppData c'è la cartella Riot client, cancella anche quella, una volta fatto chiudi tutto, sfota anche il cestino, avvia Riot client come amministratore, rifai di nuovo l'accesso, quindi fai il login, metti di nuovo le tue credenziali, scrivi qua sopra Servizi scendi fino a giù fino a trovare così il disco virtuale ed eccolo qua, tipo di avvio, metti manuale e fai avvia ora il disco virtuale è in esecuzione, fai applica e fai ok una volta fatto riavvia il sistema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao